Parco Nazionale del Matese, in attesa del provvedimento ministeriale che ne sancirà l'istituzione. Step propedeutico, quello affidato alle regioni Molise e Campania che, di concerto con l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, sono chiamati ad ultimare la perimetrazione dei territori ricadenti nell'area. L'istituzione dell'area protetta, attesa da anni, rappresenterebbe una formidabile opportunità di sviluppo economico e sociale per le popolazioni locali, nello specifico in un territorio come il Molise che, come più di altri, soffre pesantemente della crisi economica. Una opportunità di cui è ben consapevole Carla Caranci, il sindaco di Castelpizzuto, insieme ai colleghi amministratori dei comuni aderenti, ha fatto e sta facendo la propria parte. Gli enti locali, diciamo, in queste fasi precedenti sono stati chiamati semplicemente a formulare delle osservazioni in merito alle valenze del territorio, ovvero alle criticità. Però non è una competenza, diciamo, dei comuni. Attendiamo, perché è una risorsa estremamente importante. Il nostro territorio è già in gran parte ricompreso della riserva naturale del Monte Patarecchia, Torrenti Lor del Longaniello, quindi capiamo che sarà un valore aggiunto quando entreremo, diciamo, a far parte del Parco Nazionale del Matesa.